Siamo qua, abbiamo completato la prima parte dei lavori di urbanizzazione qui del lotto di Vigne Rosse, una situazione che stava andando avanti da diversi anni, l'amministrazione comunale si è sostituita alla ditta che ha fallito, che ha realizzato i primi 24 alloggi, qua ma mancavano le opere di urbanizzazione primaria. L'amministrazione è riuscita a escuotere parte della fiduzione sostituendosi alla ditta, così i cittadini vivono in un contesto diverso rispetto a quello che era prima, quindi sono stati realizzati dei parcheggi, delle strade, è stato reso anche un giardino vivibile, i prossimi mesi verranno realizzati anche i giochi per i bambini e quindi sarà un contesto, verrà fatta anche l'illuminazione, sarà un contesto ben diverso rispetto a quello che da anni i residenti vedevano e vivevano.